Una festa importante per la Guardia di Finanza di Crotone? Una festa molto importante perché tra l'altro il 249esimo anno di fondazione del corpo ricade nel centenario dell'istituzione della Polizia Investigativa Tributaria. Quindi 100 anni fa la Guardia di Finanza passava a un nuovo modello organizzativo e di proiezione che è quello di forza di polizia, competenza generale che affronta le tematiche della tutela, degli interessi, del bilancio dello Stato con un approccio sicuramente trasversale che non è soltanto quello di tutelare gli interessi e le peculiarità che riguardano l'ordinamento ma riguardo con particolare riferimento anche al contrasto ai traffici illeciti in genere, al contrasto ai grandi fenomeni di evasione, al contrasto a tutti gli sprechi e quindi agli illeciti che riguardano il settore della spesa pubblica. Un bilancio di questi anni a Crotone positivo? Io direi un bilancio molto positivo perché l'attività che riguarda l'operatività della Guardia di Finanza ha permesso di cogliere risultati di servizio in tutti i settori e in particolare soprattutto per quanto riguarda la lotta alla corruzione, per quanto riguarda la lotta agli illeciti, agli sprechi e quindi a tutte quelle fattispecie perniciose in danno dei bilanci non solo nazionali, non soltanto locali ma soprattutto dell'Unione Europea. Generale, è un momento importante, una festa importante ma anche la possibilità di conoscere quello che è il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Crotone che ha messo in campo in questo periodo? Sì, è un momento importante, per noi rappresenta il 249esimo anniversario quindi 249 anni a servizio della collettività e servizio dei cittadini. Il bilancio è sicuramente positivo ma quello che va al dia dei numeri io ritengo è l'impegno costante e quotidiano dei miei uomini su tutto il territorio, sia sul territorio sia a mare, che ha visto risultati più che lusinghieri e questo sicuramente è un ottimo indicatore su quella che è la volontà ferma di adempiere i propri doveri. Generale, la Calabria all'Italia storicamente e anche morfologicamente è una zattera nel Mediterraneo dove la Guardia di Finanza recita un ruolo importantissimo. Sì, la Calabria è una grossa zattera o diciamo un grosso puntile proteso nel Mediterraneo abbiamo circa 350 km di coste che dobbiamo tutelare H24 giorno e notte cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di dare il massimo e i risultati confermano che l'impegno è costante ed efficace.